Un vero e proprio manifesto programmatico che impegni i nuovi parlamentari a rafforzare il ruolo delle istituzioni locali. Lo invita a sottoscrivere l'UPI, Unione delle Province Italiane, che chiede al nuovo governo e al nuovo Parlamento di considerare le istituzioni locali come una risorsa del Paese e non come una mera voce di costo, una spesa inutile da tagliare perché ritengono le province prioritario il mantenimento dei servizi essenziali erogati ai cittadini. Sono diversi i punti centrali del manifesto programmatico dell'UPI. Innanzitutto la richiesta di adottare nei primi 100 giorni della nuova legislatura interventi normativi per ridurre il taglio imposto alle province per il 2013 dalle manovre economiche precedenti ed ancora di intervenire a correggere ed alleggerire i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Al centro delle politiche del Paese, secondo l'UPI, va messa la scuola, programmando un piano di riqualificazione messa in sicurezza e ammodernamento di tutti i plessi pubblici attraverso un fondo unico per l'edilizia scolastica. L'UPI chiede ancora di rilanciare l'occupazione rafforzando la funzione dei centri per l'impiego delle province e di coniugare le vocazioni imprenditoriali e le esigenze di professionalità espresse dal territorio. Per andare incontro alle esigenze di tagli della spesa pubblica, l'Unione delle province italiane chiede che il prossimo Parlamento e che il nuovo governo si impegnino ad individuare le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane in modo da eliminare inutili dubbricazioni e razionalizzazioni della spesa pubblica, ma anche di eliminare gli enti strumentali di non diretta derivazione democratica. Sono oltre 7.000, tra agenzie, società e consorsi, che svolgono senza mandato democratico le funzioni tipiche degli enti locali. Infine, ancora, l'UPI suggerisce di istituire le città metropolitane in attuazione dell'articolo 114 della Costituzione, enti di area vasta per il governo integrato delle aree metropolitane. Grazie.